Sabato 8 maggio alle ore 10 sulla spiaggia del lungomare di Agropoli si svolgerà la cosiddetta giornata Free Plastic, una giornata dedicata interamente alla pulizia della spiaggia e alla raccolta dei rifiuti. A promuovere l'iniziativa è Marco Funicello, cittadino di Agropoli e da sempre attivo sul territorio come volontario. Per le persone che vorranno partecipare l'appuntamento è davanti al Lounge Bistro presso il lungomare di Agropoli, bisognerà essere muniti solo di guanti, mascherina e tanta buona volontà. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini di Agropoli.